buongiorno a tutti benvenuti a occhio ai giornali commento alla stampa del giorno oggi è martedì 11 maggio 2021 e partiamo come di consueto dando uno sguardo al calendario quindi diamo uno sguardo anche al santo di oggi, oggi è Sant'Antimo, il sole è sorto alle 5.49 e tramotterà le 20.26 torna il maltempo in settimana su gran parte dell'Italia, temporali e rischio, nubi fragili tendenza per il prossimo fine settimana, le prime proiezioni, vedete l'Italia settentrionale in particolare ma anche le marche avranno qualche pioggia, questa è la grafica per quanto riguarda la mattinata la collina pesarese soprattutto e alconetana sarà interessata in mattinata da qualche sporadico piovasco poi il pomeriggio invece di oggi peggiora con temporali anche sulla costa ma un po' ovunque sarà pioggia la sera il marcato peggioramento con temporali lungo la costa, dall'Anconetano fin giù al Fermano questa è la fotografia e l'immagine di oggi adesso i giornali, giornali che questa mattina aprono anche con la bandiera blu bandiera blu conquistata dalla regione, c'è anche una new entry, una località del Fermano che si aggiudica per la prima volta il vessillo che garantisce, certifica la qualità non solo dell'acqua ma anche del mare quindi, ma anche dei servizi allora scatta l'arancione rafforzato, questo è il titolo del Corriere Adriatico abbiamo preso come sempre l'edizione di Pesaro parliamo qui del Covid, della pandemia ordinanza firmata da Acquaroli per il giro di vite diretto ai comuni di Acqualagna e Petriano dunque sono due i comuni del Pesarese in tutte le Marche che saranno da mercoledì, da domani in una bolla se vogliamo, ci riusciranno, non lo so, comunque avranno delle restrizioni certamente, delle limitazioni e questo per evitare l'aumento dei contagi tampone invece sul fronte tampone, l'ultimo step dell'anno scolastico chiuso il round alle medie, ora a Pesaro tocca le superiori come dicevamo la bandiera blu, il vessillo da Gabiccio a Marotta e poi ecco la legge che disegna il nuovo assetto della Regione la cronaca con un post su Facebook che ha impensierito non poche mamme e papà, qualcuno voleva adescare un bimbo e lo ha segnalato appunto e l'ha condiviso con il Popolo della Rete e poi il caso del TSO allo studente parla anche l'assessore regionale Salta Martini che giudica questo fatto abnorme il fatto di un trattamento sanitario obbligatorio dimesso in anticipo però da psichiatria mentre come vedete lo sport basket di Serie A VL battuta 86-84 a Brescia nell'ultima gara rimontata solo nel finale andiamo a vedere tutte e tre le pagine del Corriere del Carlino, scusate, le tre edizioni Pesero, Ancona e Macerata quella di Pesero pugni e calci, credevo di morire il drammatico racconto del 17enne picchiato a sangue alla rocca malatestiana siamo a Fano ora è caccia al branco fotonotizia un ciacca tutto gas Tonino Benelli iniziate le riprese del film sul leggendario pilota non solo del TSO mi hanno bloccato e imposto dei sedativi parla allo studente fanese e poi un furioso incendio a Fermignano evacuate tre famiglie e poi le solite quattro bandiere blu la Baia è di nuovo esclusa ancora esclusa Carlino di Ancona Fabriano il giorno dello scioperone per la prima volta tutte le aziende della grande crisi scendono in strada la città fantasma si risollevi ma la fotonotizia è per la regione che annuncia il via le prenotazioni tra il 12 e il 14 di maggio prenotazioni che potranno fare tutti coloro che hanno più di 50 anni over 50 tocca a voi e poi a Castelfidardo muore dieci giorni dopo aver fatto il vaccino Moderna i familiari ora chiedono l'autopsia il carino di Macerata San Severino la strada maledetta schianto col furgone padre di due figli muore a 35 anni il muratore Gianluca Mosconi è finito contro un camion fermo in un cantiere è l'ennesimo incidente stradale lungo la Septeventana gli amici dicono lasci un vuoto incolmabile ma apriamo con un argomento leggero che è quello delle bandiere blu e guardiamola questa ricostruzione questo grafico con le bandiere blu del 2021 sono 16 le località delle Marche si parte da nord a Gavice fino a San Benedetto e questi sono i vessilli che sventoleranno anche per questa estate 2021 poi ci sono anche riconoscimenti per gli approdi cioè i porticcioli porti turistici a Fano a Peserurbino per esempio abbiamo solo Fano con Marina dei Cesare a Senigallia Porto della Rovere ad Ancona Marina Dorica Numana Porto turistico appunto di Numana Porto San Giorgio in provincia di Fermo e poi ad Ascoli Piceno in provincia di Ascoli Piceno San Benedetto del Tronto con il circolo nautico San Benedettese ecco questa è un po' la situazione dicevamo che c'è anche una new entry la new entry è della fermana Altidona che conferma per le località storiche da sempre simbolo di qualità delle acque e adesso la pagina di Fano del Corriere Adriatico la vicenda di quel ragazzo di 18 anni che è stato portato nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Muraglia TSO nessuna terapia a psichiatria Salta Martini dice vicenda abnorme il ragazzo dimesso prima dei sette giorni di legge la sua avvocata dice farò un esposto penale la gestione è stata scandalosa lo studente diciottene del Polo 3 al pronto soccorso mercoledì scorso ha fatto resistenza all'esecuzione del tampone dopo che era stato disposto il trattamento sanitario obbligatorio inoltre il TSO è stato giustificato dal medico del pronto soccorso che l'ha proposto e dalla psichiatria che l'ha controfirmato con l'esigenza di sottoporre il ragazzo ad urgenti interventi terapeutici ma nel reparto di psichiatria di Pesaro in 4 giorni di permanenza al giovane non è stata praticata alcuna terapia Telefono Viola intanto impugna l'atto per la mancanza dei requisiti criticato il ricorso alla polizia scrive ancora Lorenzo Furlani nel giornale questa mattina il legale di Telefono Viola ha già impugnato davanti al tribunale il TSO sostenendone la nullità per la mancanza dei requisiti richiesti dalla legge e qualcuno poi riporta anche le parole le dichiarazioni di Isabella Giampaoli che è il legale scelto proprio dal 18enne per la sua difesa presenterò anche un esposto alla procura tutta la vicenda dall'inizio è stata gestita in maniera scandalosa qualcuno ne dovrà rispondere perché le responsabilità penali sono personali e qui sotto c'è la testimonianza il racconto appunto di questo ragazzo di 18 anni che ricostruisce i momenti di questa sua disavventura dalla scuola al pronto soccorso e racconta come abbiamo letto poco fa quando è arrivata l'ordinanza del sindaco di Fano per il TSO hanno voluto farmi il tampone senza il quale non sarei potuto andare in TSO quindi in qualche modo mi sono difeso cercavo di mettermi a tartaruga con la faccia verso il basso ho urlato e pregato poi mi hanno dato due calmanti per via endovenosa che mi hanno intontito per una giornata quindi in ricovero in psichiatria poi continua ancora un po' il racconto ma Fano a Fano fa discutere ma soprattutto farà brividire quel racconto quell'episodio di violenza violenza gratuita che a dire il vero avviene un po' un po' in tutta Italia episodi di questo genere sono segnalati un po' ovunque di quel gruppo di quel branco parola terribile perché parliamo di persone e non di animali anche se poi i comportamenti sono più simili a quelli degli animali che dagli uomini ebbene questo branco che ha attaccato aggredito due ragazzi un 17enne e un 18enne che da Pesaro avevano deciso di fare un giro a Fano in zona centro storico ovvero Rocca Malatestiana violenza e teppismo alla Rocca ora le telecamere con più vigili l'assessore Cucchiarini dopo l'aggressione per lo smalto di un ragazzo lo smalto era un pretesto lo smalto era quello che a un certo punto uno degli aggressori ha notato nelle mani di questo 18enne 18enne che aveva questo ciuffo bianco che ha attirato l'attenzione di questi ragazzi e lo smalto di colore nero nelle mani da lì è iniziato come al solito dammi una sigaretta hai una sigaretta no non ce l'ho fammi provare la collanina gliela strappata e poi da lì il branco ha cominciato ad andare su di giri si è eccitato come avviene in questi casi e quindi da una da una manata si è passato a qualche ceffone qualche pugno e alla fine chi ci ha rimesso ci ha rimesso il compagno 17enne di quel ragazzo che portava lo smalto il ragazzo 17enne che ha tentato di difenderlo è quello che ha avuto più botte e lo racconta anche sul resto del Carlino con questa intervista ero per terra e sentivo solo delle gran botte dice in questo drammatico racconto il minorenne picchiato a sangue alla rocca ho detto ora muoio e senza un motivo se avessero continuato a colpirmi alla testa per me sarebbe stata la fine ci hanno accerchiati le mani spuntavano dappertutto e quando ho detto fermatevi è partita la violenza e adesso è caccia al branco vedete come i termini sono come se fossimo appunto la caccia dei cinghiali come se fossero degli animali sono accusati anche di rapina raccolte le testimonianze di alcuni adulti si visionano le immagini delle telecamere ora è chiaro che in un mondo in una città in una località come la nostra dove ormai le telecamere sono praticamente dappertutto io credo che non sarà difficile individuarli anzi possiamo già dirvi che hanno le ore contate tutti questi soggetti tutte queste persone hanno le ore contate quindi tra qualche giorno sicuramente avremo nomi e cognomi quello che è auspicabile chiaramente è la pena esemplare perché non è che si può adesso al di là dei proclami politici come quello che pubblica il Corriere Adriatico torniamo indietro di Ricci sindaco di Pesaro che dice ecco perché serve la legge Zan non serve assolutamente a niente la legge Zan in questi casi non era per una questione omofoba lo è stato ribadito questo è strumentalizzare un fatto terribile per spingere le proprie idee politiche quindi su questa cosa Zan non c'entra niente qui c'è la rapina qui c'è l'aggressione tutte cose che si possono punire benissimo con le leggi che già ci sono però bisogna chiaramente applicarle bisogna trovarle bisogna fare in modo che siano applicate alla lettera e come si deve che siano anche da esempio anche per tutti gli altri schianto in autostrada 4 km di colonna è l'altro articolo che troverete di spalla sul Corriere di Fano spaventoso scontro tra auto solo contusioni per fortuna per le persone ecco l'incidente con quest'auto capottata ieri sull'autostrada a 14 in direzione nord poco dopo il casello di Fano all'altezza di Fenile non ci sono stati problemi come dicevamo per i conducenti ma solo tanto spavento e tanta paura le pagine del Covid Petriano e Acqualagna in arancione rafforzato Pesaro in leggero rialzo ordinanza regionale per i due comuni sopra i 250 contagi per 100.000 abitanti adesso fare su tutta la provincia dopo la modesta discesa ha iniziato a risalire intanto insomma il faro in questo momento è puntato tutto sulla provincia di Pesaro perché l'andamento della curva del contagio preoccupa se insomma da qualche settimana i numeri purtroppo in provincia di Pesurbino come abbiamo già detto sono in salita o perlomeno non diminuiscono sufficientemente intanto i vaccini da fare 30.000 richiami Saltamartini dice teniamo le scorte per garantirli scatta l'allarme mentre Figliuolo il generale che si occupa in tutta Italia di far partire o decollare definitivamente questa macchina dei vaccini ma che purtroppo non decolla allarga la platea delle prenotazioni intanto c'è chi denuncia io ho 88 anni sto aspettando una telefonata dal 12 di marzo è un residente a Iesi uno Iesino Sirio Catani che dice avevo rifiutato AstraZeneca mi hanno detto richiameremo però Campacavallo dal 12 di marzo dopo aver rifiutato questa AstraZeneca insomma gliela stanno facendo scontare l'attesa e comunque gli over 50 ecco l'altra notizia del giorno gli over 50 nelle marche possono iniziare a prenotare o meglio tra giovedì e venerdì potranno iniziare a prenotare il loro turno il loro vaccino segmento appunto che partirà tra giovedì e venerdì anche se tutto dipenderà come al solito dal numero di dosi che avremo però intanto ecco dopo aver fatto gli ottantenni dopo aver fatto i fragili dopo aver fatto le persone con disabilità adesso è arrivato il momento dei cinquantenni over 50 ieri hanno preso il via le prenotazioni per chi ha specifiche patologie senza però elevato grado di rischio che non sono seguiti dalle strutture sanitarie che possono iscriversi dunque alle liste di adesione per la vaccinazione tramite il sito delle poste rientrano in questa categoria di cinquantenni che già possono fare la prenotazione ma se hanno dei problemi non gli altri gli altri che stanno bene lo possono fare soltanto tra giovedì e venerdì appena arriverà l'ufficialità ma intanto rientrano in questa categoria dicevamo le persone con malattie respiratorie cardiocircolatorie neurologiche diabete altre malattie endocrinopatie HIV insufficienza renale eccetera eccetera insomma chi ha dei problemi e sa di averli insomma può intanto anche se ha 50 anni dei 50 in su può fare questa prenotazione dopodiché tutti gli altri troppi contagi da domani scatole di vieti l'altro articolo dal resto del carlino Acqualagna e Petriano diventano arancioni problema per i ristoranti che non potranno neanche mettere i tavoli all'aperto chiaro che quando si è in zona arancione o rossa zona rossa arancione rafforzato ma insomma adesso forse rosso fa paura ma insomma questo è nelle città dei tartufi tutte le elezioni invece in DAD parliamo città dei tartufi la città dei tartufi è Acqualagna ovviamente vaccini ai sessantenni il 20% guardate qui rifiuta AstraZeneca su 710 prenotati oltre 100 hanno detto di no la storia di Silvano colpito da infarto a causa del virus dice io ho accettato e anche qui vedete fascia 50-59 prenotazioni forse da giovedì Saltamartini speriamo che bastino le dosi poi a Urbino il Corriere Adriatico pubblica nella pagina di Urbino ma la notizia si riferisce a Fermignano di un tafferuglio di una rissa anche qui una maxirissa fuori da un ristorante la festa dei 30 giorni degenera questo è il titolo una maxirissa tra una ventina di ragazzi alcuni minorenni nel giardino di un noto ristorante che si trova sulle colline antistanti la cittadina metaurense nel comune di Fermignano il fatto è accaduto sabato scorso lo scrive il Corriere Adriatico lo firma Eugenio Gulini ed è in questa località si erano raccolti vari studenti da più parti dei centri limitrofi per solennizzare i 30 giorni dalla fine delle lezioni scolastiche visto che per i 100 o 50 i 50 giorni non si era potuto fare nulla non si era potuto celebrare per le normative anti-covid le botte da orbi sono state immortalate da uno smartphone e stanno facendo il giro della rete ecco questo per dirvi che non è solo la Rocca ma la testina di Fano cioè ci deve essere un un qualcosa dentro questi ragazzi che evidentemente ancora non è emerso non è venuto fuori ma che ogni tanto esplode questa rabbia che si stanno portando dentro questi ragazzi e che basta un niente per farla scoppiare e poi ecco basta metterli insieme un po' insieme e guardate che cosa succede quindi anche qui questa festa che è finita in una maxirissa c'è voglia di picchiare a caso così anche a volte si leggono di queste storie incredibili di persone che vengono prese di mira perfetti sconosciuti che vengono aggrediti senza motivo andiamo a Fano torniamo anzi a Fano parcheggi blu al mare è scontro almeno i permessi per chi lavora chiedono i residenti o comunque chi lavora nella zona del mare che con i parcheggi blu adesso saranno costretti ogni volta che mettono lì l'auto a tirar fuori la monetina un centinaio di titolari e dipendenti di uffici agenzie e negozi scendono in campo guidati da Alberto Santorelli ci riservino dei posti e mettano in sicurezza l'area davanti allo IAT lo IAT è l'ufficio del turismo del comune di Fano dunque scrive Anna Marchetti non si placa la protesta per i 311 parcheggi a pagamento in Viale Adriatico e a Lido ieri sono scesi in campo i titolari e i dipendenti un centinaio di uffici agenzie negozi le cui attività insistono nel tratto finale di Viale Adriatico tra l'OIAT e Viale Caduti del Mare due le richieste permessi per il parcheggio nelle zone blu a chi lavora e la messa in sicurezza dell'area davanti all'OIAT in curva dove i locali sono stati autorizzati a mettere i tavolini è chiaro che bisogna far quadrare un po' la coperta è sempre troppo corta in questi casi ma se si danno i permessi poi quanti ne restano a disposizione di chi poi effettivamente se si mettono blu è perché si vuol se si ha bisogno di far girare le auto ma soprattutto di anche fare cassa è inutile nascondercelo qui e quindi se si danno poi tutti questi permessi per chi lavora per chi risiede tutti gli altri alla fine tanto voleva lasciarle bianche insomma la ciclabile si farà è un altro tema caldo sulla questione Afano tiene banco ancora questa ciclabile siamo tutti ciclisti qua la ciclabile si farà nuovo progetto entro luglio il dibattito sulla ciclovia del Metauro che doveva affiancare l'ex ferrovia Andrea Montalbini i fratelli d'Italia spegne le polemiche il percorso sarà più lungo e unirà anche Fossombrone la gestione di Aset invece adesso ha un bivio in commissione ecco le due opzioni serio orientato alla collaborazione con marche multiservizi Mascarino organizza incontri alternativi il 24-25 di maggio il comune riceverà le aziende Feronia ed Estra per ascoltare le proposte anche qui sul Corriere sosta gratuita per il centinaio di operatori di via Sauro la richiesta corale delle varie attività economiche la curva ora è pericolosa quindi ammesso che si facciano 100 100 permessi i posti sono 311 insomma ne rimarrebbero 200 disponibili malore fatale per Rita Cecchini morta la segretaria del sindaco sciocca gabice aveva appena 52 anni sconvolto Pascuzzi dice non l'ho mai ringraziata abbastanza mentre dalla pagina di Vallefoglia svolta ambito territoriale caccia la regione spara il colpo Furlani campo di battaglia ancora fumante il funzionario pesarese per il dopo malavolta porterò dice lui equilibrio è un pesarese a 50 anni sfida che accetto volentieri lavorerò per ridare funzionalità all'ATC1 e poi sotto anzi no andiamo sull'altra pagina che è tardi la ciclovia ci coinvolgerà e promuoverà il sindaco Bonci replica la minoranza affidato l'incarico per il progetto poi un'auto le piomba addosso mentre va in bicicletta grave farmacista la donna cade sull'aiuola soccorsa dall'eliambulanza i rilievi dei carabinieri un fatto che è avvenuto ieri mattina verso le 11 investita quasi frontalmente da una Fiat Punto di colore nero mentre sopraggiungeva in sella la sua bicicletta l'impatto è stato violento Nives Venturini 56 anni di Fossombrone molto conosciuta per aver operato diversi anni addietro come farmacista è caduta rovinosamente sulla iuola che delimita in via pergamino il tratto della vecchia Flaminia davanti alla quadreria Cesarini qualità dell'offerta riconosciuta a Mondolfo per la nostra politica ambientale la soddisfazione del sindaco Nicola Barbieri per la conferma della bandiera blu mentre ci sono infiltrazioni d'acqua sulle mura medievali perdita idrica da ieri per tre metri di altezza furto delle gabbie dei maiali chiesta la condanna sessantenne aveva tagliato e venduto il ferro di un allevamento che però era dismesso da Senigallia invece vertice per ampliare le spiagge libere per i bar si attende il coprefuoco ridotto su orari e cartellone turistico il comune resta in stand by l'opposizione attacca sul degrado della città poi per i tombini trappola e allarme sul lungomare sotto invece continua a tenere banco questa coppia di innamorati focosi che sul moscone era stata immortalata dall'alto da un drone pilotato da un bagnino di Senigallia che certamente non era andato lì per fare le immagini per riprendere per fare il guardone semplicemente si è imbattuto su questa coppia che era lì sul moscone lui stava facendo invece tutt'altro lavoro stava facendo delle immagini sul lungomare che poi sarebbero servite appunto per fare dei video dei video promozionali per la spiaggia romantici e bacchettoni si sono divisi sui social e hanno come dire siccome non ci hanno niente da fare si sono messi lì a disquisire su chi appunto ha giudicato questa cosa romantica e chi invece ha bacchettato dicendo queste cose non si fanno sulla spiaggia direi che possiamo fermarci qua a Urbino anzi no c'è questa pagina da Urbino vogliamo leggere sì perché è una bella notizia comunque le case di riposo arriva alla stanza degli abbracci l'assessore Elisabetta Foschi dice le visite non saranno come prima sono vietati gli assemblementi si dovranno mantenere le distanze mentre la nevicata di aprile secondo il barometro del Serpieri ha mitigato e ci voleva proprio la siccità ancora la Senigallia covid piccoli segnali segnali di crescita dei positivi dopo settimane di calo la curva si è appiattita e nei comuni del senigallese aumentano i numeri in ospedale solo 14 ricoverati solo ovviamente lo mettiamo sempre tra virgolette perché basta uno ed è sempre comunque una cosa che sarebbe meglio non avere noi ci fermiamo qua noi ci diamo appuntamento stasera alle 20 e 30 con l'intellegiornale però alcuni appuntamenti due alle 18 in diretta dal santuario della Vergine dei poveri del Belgio alle 18 il Santo Rosario poi alle 21 guarda chi c'è con l'architetto Ciro Mariani del museo dei bronzi dorati di Pergola grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa buona giornata a tutti